Buongiorno, chiedete e vi sarà dato Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto E ancora più avanti, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro Questa infatti è la legge e i profeti Ieri parlavamo di ricerca, oggi il Signore ci dice che chi cerca trova, soprattutto trova Lui Ma che cosa siamo chiamati a chiedere al Signore? Non sappiamo neanche che cosa sia conveniente chiedere Ma Lui ce lo rivela, ce lo dice Chiedete il dono dello Spirito Santo E Lui che in ogni occasione ci darà intelligenza, forza, discernimento Per sapere come e dove orientare i passi della nostra vita E poi c'è una regola che non sbaglia mai E' la regola d'oro Quella che è presente in ogni religione, in ogni cultura In ogni situazione umana Chiedere al Signore non solo il dono dello Spirito Santo Ma chiedere di saper vivere la regola d'oro Fare agli altri ciò che vorrei fosse fatto a me E questa è la strada dell'amore, la strada della carità Buon cammino per oggi Buon cammino per oggi